Benvenuti a una nuova puntata di European Affair Talks, siamo oggi con la dottoressa Alessandra Spagnolo, Business Development Manager in Milia, ma con una lunga carriera professionale in ADECO, esperta di formazione professionale e docente del master di primo livello per esperto in servizi e politiche del lavoro. Benvenuta dottoressa. Grazie, buonasera. Oggi in questa puntata parliamo ancora di politiche attive del lavoro e di formazione, molto importante in questo momento soprattutto di grande evoluzione del mercato del lavoro e delle modalità di erogazione del lavoro. Dottoressa, quanto è importante la formazione costante nella vita professionale di una persona per gestire questa fase di grande cambiamento? Direi importantissima. Nel corso di quest'ultimo anno abbiamo vissuto tutti dei cambiamenti molto forti, anche in qualche caso quasi traumatici, però devo dire che l'evidenza di quanto la formazione sia fondamentale per stare nel mercato del lavoro viene ormai da alcuni anni, è cresciuta negli ultimi anni sicuramente. Tra l'altro da alcuni anni abbiamo tutti quanti preso sempre più coscienza di come il contesto della trasformazione digitale abbia portato a delle accelerazioni nelle dinamiche anche del mercato del lavoro molto importanti e soprattutto il mercato delle competenze è effettivamente un mercato che si è modificato in una maniera molto forte e per fortuna le persone hanno pian piano preso sempre più consapevolezza della necessità di investire, quindi il tema dell'investimento nelle competenze è diventato tanto un tema di attenzione da parte delle organizzazioni e quindi di chi dirige le organizzazioni e tanto un tema su cui sono sempre più sensibili i singoli lavoratori o le singole persone, giovani, studenti che hanno una consapevolezza sempre maggiore della necessità di aggiornare costantemente le competenze per essere effettivamente competitivi in questo mercato del lavoro che cambia continuamente. Chiaramente l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo quest'anno ha portato a un'accelerazione incredibile che non avremmo immaginato rispetto a quello che già era un processo di trasformazione digitale che aveva avuto un impatto molto notevole su queste dinamiche e quindi a maggior ragione oggi parlare di resilienza, cosa che appunto sentiamo fare molto spesso, significa fondamentalmente per quanto riguarda il mercato del lavoro e il mercato delle professionalità, lavorare sulle competenze. Dottoressa, lei oggi è business development manager in Milia che è un'evoluzione dell'attività di formazione che veniva già svolta in ADECCO qualche anno fa intuendo proprio l'importanza della formazione nella modalità di erogazione del lavoro. Ricordiamo ADECCO è un'azienda leader nell'erogazione, nella somministrazione di lavoratori interinali e quindi in questo caso Milia, qual è l'obiettivo e quali sono gli scopi di Milia? Diciamo che nel momento in cui ADECCO che è sempre stato leader nel mercato delle risorse umane ha avuto via via un'evoluzione sempre più importante trasformandosi in piattaforma di servizi molto ampia e molto articolata nell'ambito delle risorse umane, noi come società di formazione abbiamo avuto un'evoluzione specifica sul mercato della formazione guardando a quello che avveniva proprio nell'ambito della digital transformation e quindi delle conseguenze in termini di radicale cambiamento dei fabbisogni di competenza e quindi anche delle modalità di realizzazione, di progettazione, di realizzazione e di fruizione delle iniziative di formazione. Questo ha portato a un'evoluzione che è andata al di là dei consueti aggiornamenti di quello che è l'offering, la modalità di offrire ai servizi, si è trasformato in un proprio cambio di pelle della struttura dedicata alla formazione del gruppo ADECCO e quindi noi abbiamo segnato questo passaggio anche con un brand nuovo che è Emilia, che ha proprio questo focus non solo sull'occupabilità delle persone come sempre chiaramente abbiamo avuto nel gruppo ADECCO, ma anche proprio un focus specifico su quello che è il mondo digitale. Ecco proprio parlando di formazione e naturalmente di politiche attive del lavoro, qual è la situazione attuale in Italia? La situazione in Italia è sicuramente una situazione direi ancora in evoluzione, da tanti anni parliamo di politiche attive del lavoro nel senso di auspicare soprattutto un'evoluzione del quadro complessivo che come sappiamo è anche un quadro molto frammentato nelle diverse regioni e quindi con dinamiche e con declinazioni differenti di quelle che sono magari delle politiche generali che vengono sicuramente dall'Unione Europea, che hanno una declinazione nazionale, ma che poi effettivamente nel contesto italiano diventano delle iniziative che possono avere differenze anche importanti da regione a regione e noi che abbiamo appunto un focus specifico sulla formazione, da tempo cerchiamo di rimarcare anche il fatto che la formazione non debba mai essere trascurata come leva essenziale per le politiche attive del lavoro, perché lavorare sulle competenze è un passaggio necessario per incidere effettivamente sull'occupabilità delle persone, qualche volta si è parlato anche di politiche attive ma in realtà andando magari a fare degli interventi solo parziali da questo punto di vista, noi riteniamo che sia molto importante non trascurare mai l'elemento dell'investimento sulle competenze. Ci puoi citare degli esempi recenti di attività nell'ambito delle politiche attive del lavoro che possono avere un risultato positivo? Gli esempi sarebbero veramente tantissimi, difficile citarne un numero che poi possa forse essere significativo, direi così, vi cito due attività, due iniziative molto diverse che però hanno per noi un valore importante perché hanno una coerenza con quello che è il mondo articolato delle politiche attive del lavoro nel quale come Emilia investiamo. Da una parte c'è il progetto MADE, MADE è un competence center, è uno dei competence center riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico che due anni fa ormai aveva lanciato un bando grazie al quale poi si sono creati competence center anche in Italia. Emilia dal primo momento ha seguito questo tipo di iniziativa, ha aderito a un partenariato che è coordinato dal Politecnico di Milano e quindi noi siamo tra i soci fondatori e vogliamo essere tra gli attori più importanti del mondo della formazione all'interno del competence center perché il competence center è il luogo nel quale si può sviluppare tutta una serie di iniziative che incidono proprio sulle competenze delle persone nel mondo della digital transformation e su tutto il mondo che è quello cosiddetto di industria 4.0 che è sicuramente una definizione come dire fin troppo sintetica, racchiude tantissimo, ma dentro a quel mondo complesso noi siamo a tutti gli effetti proprio per essere sempre sicuri di poter offrire competenze che siano al passo con l'evoluzione. L'altra iniziativa è completamente diversa e qui siamo più legati non a una nostra iniziativa ma proprio a una novità normativa che stiamo seguendo. Dal primo momento abbiamo seguito con grande interesse il Fondo Nuove Competenze che è una novità assoluta nel panorama delle politiche attive in Italia, è stato lanciato dal Ministero del Lavoro in primavera come idea che si è concretizzata con un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e dell'Economia e Finanze e poi con un bando dell'Ampal proprio in quest'ultimo trimestre. Questa è un'esperienza che stiamo facendo in questo momento con le aziende e con i clienti, molto interessante perché anche lì abbiamo un'occasione di vedere uno strumento del tutto nuovo che vuole incidere sulle competenze attraverso un sostegno alle aziende che si traduce in un finanziamento del costo del lavoro per la parte dell'orario lavorativo che è dedicato alla formazione. È una modalità nuova appunto di intervenire sulle aziende per spingerle a fare formazione. È un'esperienza quindi interessante che valuteremo sicuramente nel tempo ma che però per il momento sembra veramente poter sortire degli effetti interessanti. Un'ultima domanda per avviarci poi al termine di questa puntata di European Affair Talks. Lei è anche docente del master di primo livello per esperto in servizi e politiche del lavoro dell'Università Telematica Iul. Quanto è importante una formazione di questo tema, di questo tipo per colmare delle possibili lacune proprio nell'erogazione dei servizi? Io credo che questo tipo di iniziative e di formazione siano veramente molto importanti perché nel quadro degli interventi che come diciamo prima a livello Italia sono spesso anche un po' frammentati, avere una visione complessiva di quello che significa oggi operare all'interno delle politiche attive e fare delle cose concrete all'interno delle organizzazioni pubbliche o private che siano in favore delle persone, in favore delle aziende è assolutamente importante e non è semplicissimo. Quindi credo che delle iniziative di questo genere che cercano proprio di ricostruire un quadro che possa dare delle competenze strutturate e quindi possa preparare bene gli operatori del mercato siano assolutamente da premiare, da sostenere e quindi sono molto contenta di avere l'occasione di cercare di contribuire a questo. Dottoressa io la ringrazio per essere stata con noi in questo appuntamento di Europeana Fair Talks, sperando di averla in futuro di nuovo nostra ospite per affrontare appunto i temi legati alla formazione e all'evoluzione dei modelli di lavoro che stiamo vivendo a tutti quanti. La ringrazio, la saluto e alla prossima puntata. Grazie a voi, alla prossima occasione. Grazie.